la carta fai vedere qua la telecamera che cos'è papà? si un microscopio adesso sono pure i gormiti ehi Carly che preferisci per adesso? il pokemon o i gormiti? eh lo so ma chi sono meglio? i pokemon o i gormiti? i pokemon senti un po' ma di un po' a questi altri bimbi un pochino più piccolini di te ma com'è compiere 6 anni? è figo? è bello? lui è Stefano e lui è Lorenzo saluta un po' ciao salutate? tutti quelli che vedono saluta tu Carly così fai vedere come si fa vai ciao e loro sono ancora piccoli poi dopo vediamo altri che arrivano altri bimbi e poi fra un po' si mangia chi vuole va bene Carly? si Daniela quando parturisce? eh? Daniela quando parturisce? eh dovrebbe non lo so a luglio forse forse prima forse prima dicono di affimilla se faccio le riprese bambini ammela Elena non vuole farti riprendere Stefanino tavolo giovani il mio avviso mi sono affinché che erano la mia madre è un po' è un po' mi sono affinché si mi sono affinché ti danno passi te buca no? non ho fatti mentre venivo ho fatto lì domare che ti stanno in me dottore pensavo io c'era la mia madre eh no stavo ancora stavo ancora stavo ancora dottore stavo si si perché mi è già mi è mi è mi è mi è di rossi grazie sì Tanti auguri a Carlo, tanti auguri a te, vai Carlo e soffia! Tanti auguri a Carlo e soffia! ecco stiamo tornando a casa, questo è l'ultimo sguardo al mare Meno male, è stata interrotta la chiamata Carlo, Carlo è stata una bella festa? Vabbè questa è la cancellata Vabbè questa è la cancellata